Oggi avevamo un consiglio comunale aperto per discutere dei problemi del litorale richiesto in sede di conferenze di capigruppo da Confcommercio. Abbiamo ricevuto un attacco sui problemi, ma soprattutto abbiamo ricevuto un'offesa all'istituzione quando il presidente di Confcommercio, dopo aver finito il suo intervento, si è alzato e ha detto che non abbiamo nulla da ascoltare. Io credo che in questo momento ci voglia responsabilità da parte delle istituzioni e rispetto delle istituzioni, anche perché chi si è seduto al tavolo del Consiglio Comunale rappresenta una categoria economica che ha molto avuto da questa città, che è sempre stata ascoltata e il Consiglio ha cercato di mettere in atto quelle deliberazioni che potevano aiutare lo sviluppo di questa città. Pertanto occorre riprendere da tutte le parti senza di responsabilità, perché in questo momento ce n'è bisogno e soprattutto rispetto delle istituzioni. Grazie a tutti.